L'insegnamento di oggi, prima cosa, questo poi non riguarda i miei utili, ma prima cosa alzo le braccia, si, e ci siamo, questa è la bandeca, questa è la vibora, quindi bandeca così, vibora così, esatto, esatto. Vai, scada giù un po' io, dito, rovescio, prendo i piedi, stai fai, 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 Si, palla dietro in st julio, fai, palla dietro in st julio, fai, fai, palla dietro in letto in st julio, palla dietro in st Vieni 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 Gravissimi Vieni Vieni Tocchisci e non guardare la palla Vieni la pelle sotto la red Tocchisci e vieni 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 Stai giocare una piccolina adesso Un po' dietro, non tieni un po' dietro Un po' dietro, non tieni un po' dietro Vieni 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 entra in giro... Va bene, non fa niente, vieni! buono! buono, vieni! guarda questo braccio finisce le... che si scordi... guarda questo braccio finisce le... non ve lo spetturo più, non ve lo usare! non mi scappare il braccio, vai! e ecco la... guarda che differenza! hai visto che differenza? vai! 4, 2, 3, 4, 4... bene, prendiamo le gambe vogliamo saltare vai è alta, va bene va bene il braccio con le tecniche che sta prendiamo le gambe forza, forza forza sono due due squiglie lavora la olio la palla ecco, questo 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 vai calissimo calissimo dai 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 vai dai vai dai 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 in base a come gioco il pallonetto mi faccio giocare una ore addosso o una ricora con la lega, ok, vai, tutto mio, vai, torna indietro, se sbagli non lo fai, vai, stai buona, veni, 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 non c'è mai lavorare su stranitla prima della lavoro e poi la rifai, questa c'è la di sopra la testa, vatti a cercare la palla a fianco, la te la, va bene, prendi posizione, dai, scenta la palla di padrone, non avete paura, valla a scendere, non fa affumicare e subito come si alza la palla, e vediamo al chiu da palla a himno, bacciati ricorda bacciati e ancora in un attimo that's fällt, dici, volete in local ma mai vengono a sapere, non puoi confondere il sistema, facciamo la proposta braccia, va dentro questa è la domanda va dentro sece sece e lei è che rimane non comandandoci è che dopo la testa comandare bene e la parola solista che rimane vai Il braccio a sinistro, devi andare presso a destra, non devi andare in puntata a destra, devi andare presso a destra, perché vanno insieme, vanno insieme. Ruota, fammi vedere la spalla, non ti mettere dietro, vedo la schiena, no, questa è la schiena, la schiena è arrivato dopo, prima vedo la spalla, poi quando carico se fanno la schiena, vai, ruota, scendi, vai, senti collegato, buono, vieni, eccola, questa, memorizza, memorizza, ho aperto alto, l'ho fatto a scendere, non colpite se ho blumo di quadro questo braccio, se ho blumo di quadro, se ho blumo di quadro, se ho blumo di quadro, vai, si, memorizzate, è memorizzate, è memorizzate, se lei, se lei, se lei, se lei l'abbiamo trovata, è questa, forza, è questa, è questa, è trovata, forza, ancora, memorizzate la decennale, è questa automatica, è questa automatica, è questa automatica, guarda alto, guarda un po', vai, forza, buono, vieni, vieni adesso spazionale, vieni adesso, è una passione di partita, ma niente, adesso il tempo mi credete una palla difficile, una palla difficile, la gioco tutti anni, tutti anni la gioco, si, questa, perché stai su, stai, queste braccio, vai, forza, brava, forza, questo, vai, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, questa camminata, eh sì, eh sì, è così, l'abbiamo trovata, forza, su, deve essere questa, è l'uniziale, non mi riesco a mai più una palla del genere, forza, questo è difficile, gioco, bravo, forza, vai, bravissimo, questo è il palla del suspected, forza, Vieni! Vieni! Adesso torniamo al termine andiamo ad alzare le braccia e non dobbiamo spingere il sedere spinge ancora perché si spinge da sopra forza! questo è facile attenzione all'impatto della palla vai! Vieni! Ecco! Leggermente di fatto un po' più facile vai! un po' più facile un po' più facile vai! forza! ecco! ricorda che il finale non scendo qua non scendo qua perché se faccio questo la spiace scendo più spiace vai! forza! vieni! vai ancora! vai! finalissimo! forza! dai che l'abbiamo trovata dai! buono! solo il finale non te lo perdere non serve a niente forza! forza che non serve e non serve il fastidio questa dai! non hai minato c'è il fisico che non minato ci apriamo del braccio ma c'è bisogno del braccio buono! non c'è bisogno del braccio mi piace mi piace se non mi piace forza! dai! finge questo per spesso dai! ok! dai! ottima! dai! è una palla difficile perché lo tempo gioco in meno, non si la devi ragionare, non la devi ragionare perché la palla c'ha un tempo che gioca anticipato, non sei pronto che non sei, quando non sei pronto con le gambe devi capirlo e devi essere un po' più umile, devo essere umile in realtà perché sennò sbaglio, ok? Vai! vai, buona, ok, le gambe, questa la diamo di buona, perfetto, vai, buona, vai, forza, buona, questa, questa, vedi i pallonetti, scendi un po' di campo, vieni, 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 vai, forza, va bene, chi te mi sta bene, toccando con un gig di spalla, se tu vuoi fare il gig di spalla, devi fare il gig di spalla, se lo fai così, comodo, vai, vai, ok, vieni, 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 ancora vieni, vieni, non è un'agrezzace, vai, cerca la posizione delle gambe, cerca la posizione delle gambe, se dovrà meglio spingere forte, non c'è bisogno, non c'è bisogno, non c'è bisogno, è un'agrezzata, vai, forza, a 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 bandega accoglie accoglie la palla posso decidere posso fare una vibora e allora carico dietro e alzo il gomito bandega accoglie vibora alzo il gomito vado a spingere smash la stessa cosa in piedi la bandega la colpisco alle 6 la vibora la colpisco alle 3 lo smash la colpisco nel punto più alto di poi lo non l'arrivo si 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 se si si es si 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 Sedi ora, ok? Non mi chiede, non c'è bisogno, stai aperto, perché tu puoi stare aperto, ma senti la spalla, perché tu senti il corpo, ok, vai, ok, non ti resta in braccia, esatto, non ti resta in braccia, adesso provo la pianta, 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 vai, così, provo la pianta, pianta, ok, vai, ok, pianta, pianta, pianta diventa la ripra, al mezzo secondo è quello che devi fare, ok, e devi ricordarti quello che devi fare, ricorda, ricorda, devi ricordarti quello che devi fare, si alza la palla, tu, lascia, solo quello ricorda, tutto il resto di vedere, vai, ok, pianto, ok, bia di vostri spalla, la mano sinistra, la mano sinistra, la mano sinistra, non mi piace, io non so buona, amatita la palla, la mano sinistra, non mi piace, la mia cosiista ti è crucia e non va bene, il movimento deve essere morbido, la voce deve essere fatta muovi poco meno, vai morbido, 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 ok non ci sono molto alto queste braccia, vai, 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 vai non ti cruciare, non ti cruciare, non ti cruciare, non va malì, non va malì www.mesmerism.info Sì le gambe, le gambe, vai, vai, dritto, 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 laterale, dritto, 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 dr Grazie per la visione!